Io la soluzione la vedo più semplice di quella che è stata prospettata oggi dal Comune di Como, nel fare la manifestazione di interesse che occorrerà ancora 15 giorni e se sarà più di un'impresa che farà la manifestazione di interesse si parla ancora di gara. Quindi questa cosa a me preoccupa. Non si ferma il botta e risposta tra Regione Lombardia e Comune di Como sull'area di Tavernola che tiene scacco oramai da mesi il cantiere delle Paratie del Lungolago di Como. Tutto è fermo in attesa che la zona che dovrà essere adibita ad aria di stoccaggio e deposito venga divisa tra infrastrutture lombarde e l'azienda che attualmente occupa l'aria e che gestisce anche il battello spazzino. Una questione delicata che rischia di far slettare ulteriormente i tempi l'ennesimo intoppo di un cantiere infinito. Poteva anche essere fatto un atto transattivo in cui veniva regolizzata la concessione per chi in questo momento ha un contratto di interesse pubblico e ha contratti di tipo privatistico in quell'area fino alla fine dei lavori e delle paratie. Dopodiché liberi tutti, si può fare bandi, si progetta tutto quello che si vuole. Poi sul bando per l'assegnazione dei lavori con la firma del contratto con l'azienda vincitrice dell'appalto ancora in sospeso Turba spiega. Senza la messa a disposizione dell'area di Tavernola, che non è un'area di stoccaggio di deposito ma è l'area di approdo a lago, e ricordo che è stata un'espressa richiesta del comune di Como di portare la maggior parte del materiale da lago, senza questo il contratto non può essere sottoscritto, anche perché nei 45 giorni dopo la sospensione del contratto, l'impresa deve fare tutte le autorizzazioni, si deve concordare tempi, tempistiche, mezzi, e i 45 giorni passano velocemente e quindi senza di quello il contratto non si firma.